Questa sera vi faccio vedere una breve registrazione sull'uso del saturimetro. Ve lo faccio vedere perché ho ricevuto lettere allarmate di gente che pensava di stare male, poi stava bene, era il saturimetro che non funzionava bene, anche perché questo è un saturimetro a basso costo, questo che uso in studio è più professionale e in studio ne tengo uno proprio professionale. Comunque, il saturimetro è uno strumento molto utile per fornire un'indicazione di come è la saturazione di ossigeno e serve per fornire al proprio medico, al proprio pediatra, un valore in più, un valore in più, non è l'unico valore. La cosa più importante è come sta la persona, come respira, eccetera. Però abbiamo visto che nella Covid la saturazione può scendere anche tanto pur stando la persona non troppo male, certo non bene. La saturazione normalmente deve essere superiore al 95, nei bambini superiore al 97. Si misura con questo apparecchietto. Ci sono altri apparecchi più grossi, comunque quello di uso più comune è questo. Fornisce alcuni parametri. Qui nella parte superiore fornisce la saturazione, nella parte inferiore la frequenza cardiaca. E funziona semplicemente in questo modo. Si infila un dito, si accende e si valuta come è la saturazione di ossigeno. Magari mi raddrizzo. Ecco. Non prendete la valutazione iniziale, perché avete visto che subito era sotto i 97, quindi 99 è la saturazione e 56 la frequenza cardiaca. Però se vi muovete un pochino o non fa una bella presa, rischiamo di avere dei valori completamente sballati. Quindi quando lo misurate dovete mettere il dito bene, vedere questa colonina che va su, però vedete, in questo caso non era messo subito molto bene, dava un valore di 88. Quindi non dovete avere le dita troppo fredde, dovete valutare la colonina di sopra. E quelli che ce l'hanno, questa cosina che oscilla va su e giù, che serve per dirci se prende bene la saturazione. Quindi vi faccio rivedere l'apparecchietto. Metto e prima che lo prenda, prende la saturazione, ci può essere un momento in cui uno si preoccupa. vedete adesso inizia, subito 87, 88. Ecco, non prendete questo. Aspettate che si stabilizzi su dei valori e ci può volere un pochino di tempo. Comunque questa è una macchinetta così da uso casalingo, questa è una macchina un pochino più professionale e è più stabile. Chiedete al vostro pediatra come prenderla. Comunque avete visto che col movimento scendeva un pochino, quindi bisogna appoggiare la mano su una superficie. Vi tranquillizzo sulle mie condizioni di salute, in alto la saturazione e sotto la frequenza cardiaca. Se faccio un pochino così però puoi scendere e la macchina andare in filta. Arrivederci, riprenderemo con degli amici però delle trasmissioni entrando più sul tecnico. Intanto questa è una piccola pillola da ricordare. Se state bene, la saturazione è sbagliata potrebbe essere la frequenza cardiaca oppure la macchina che avete preso in un momento in cui non andate. Buonasera a tutti e al prossimo video.